Questi sono i temi di stretta attualità per quanto riguarda questa settimana in cui abbiamo ribadito che le banche centrali sono le assolute protagoniste. Però ci spostiamo un pochino più in là nel tempo, non di molto perché mi riferisco a gennaio 2022. Il primo gennaio 2022 in particolare sarà una data molto importante perché celebriamo i 20 anni proprio dall'inizio della circolazione dell'euro della moneta unica. Innanzitutto voglio chiederti una valutazione. Che voto daresti in questo momento alla moneta unica non solo per la situazione attuale che sta attraversando ma anche per tutte le sfide che in questi 20 anni ha dovuto affrontare dalla globalizzazione all'evoluzione tecnologica? Questa è un'altra domanda molto complessa. È difficile poter dare un voto onnicomprensivo alla moneta nei suoi 20 anni di vita, soprattutto perché bisogna distinguere i periodi e i casi. I periodi sono un primo periodo che va fino alla grande crisi del 2008 che poi ha avuto qui in Europa le condizioni peggiori nel 2011 con la grande stretta che poi è stata contrastata dal governatore Draghi nel 2012. Diciamo questo primo periodo fino al 2011 un periodo decisamente positivo, un periodo in cui c'è stato un buon percorso, in cui c'è stata una buona convergenza fra il credito e la finanza, in cui si sono costruite le basi di una politica monetaria solida. Mentre invece dopo la grande crisi del 2008 che appunto in Europa ha avuto le conseguenze peggiori nel 2011, spesso la politica dell'euro, quindi la politica dell'ABC non è stata all'altezza della situazione. Per esempio nel caso della Grecia il problema non è stato affrontato al meglio e quindi dobbiamo distinguere questi due periodi. Ultimamente l'euro è tornato ad essere un baluardo importante per quello che riguarda la stabilità dell'Unione stessa. Poi dobbiamo fare un'altra distinzione importante. Non è facile rispondere alla domanda se l'euro è andato bene o è andato male in questi 20 anni. Dipende da dove. Per esempio leggendo un report di Bloomberg vi sono paesi in cui vi è stata una percezione di positività per quello che riguarda il giudizio complessivo e globale dell'euro nei 20 anni e parlo in maniera precipua della Germania, evidentemente, ma poi anche dell'Austria, della Finlandia, addirittura del Belgio e anche di alcuni paesi che sono entrati nell'area euro solo successivamente, per esempio la Slovenia e la Slovacchia, dove la percezione dell'euro è stata molto positiva, dove l'euro ha sicuramente contribuito ad aumentare la competitività e ha decisamente soddisfatto il sistema produttivo e i cittadini dei vari paesi. Poi ci sono altri paesi in cui questo giudizio non è stato espresso in termini altrettanti positivi, fra i quali ci siamo anche noi, c'è la Francia, c'è la Spagna, che sono paesi tutt'altro che secondari nella costruzione della moneta unica europea, quindi anche qui vi sono giudizi differenti a seconda degli stati e della percezione. Per quello che riguarda l'Italia, devo dire che però abbiamo, soprattutto nell'ultimo anno con l'elaborazione del PNRR e del Recovery Plan, abbiamo l'occasione per recuperare la strada perduta e anche per poterci in qualche modo avvantaggiare rispetto ai competitor. Quindi appunto un bilancio di luci e di ombre che per quello che posso ritenere io personalmente sono più luci che ombre, non ci sono dubbi, però non c'è dubbio che vi sono state anche alcune fasi in cui l'euro davvero ha dato l'impressione di non controllare la situazione. Alcuni mi chiedono, alle volte anche lettori mi scrivono e mi chiedono come sarebbe stato se ci fosse ancora la lì. Ecco, guarda mi hai proprio anticipato perché te lo volevo chiedere anch'io, nel senso che ovviamente l'euro ha scatenato il dibattito insomma tra moneta unica oppure conio nazionale, come sarebbe andato se molti dicono avessimo tenuto la lira in questo momento, non in questo momento, anzi un bel po' di tempo fa l'Italia sarebbe andata in default, tu come la vedi? Guarda, difficilmente posso parlare di default o delle conseguenze diciamo così precise di questo. Quello che posso sicuramente osservare è che avere conservato la lira non ci avrebbe messo al riparo da alcune delle grandi turbulenze che ci sono state in questo ventennio e soprattutto essendo il nostro tallone d'Achille il debito pubblico strutturalmente così alto, la lira ci avrebbe sicuramente svantaggiato. Poi non posso dire se sarebbe stato default o meno, però posso garantire che l'euro ci ha messo abbastanza al riparo dalle conseguenze più perniciose di tutto questo. Considerate appunto la molle del debito pubblico italiano, certo, alcuni possono osservare che magari avendo mantenuto la lira e avendo mantenuto la banca centrale in Italia, i nostri debito pubblico, i titoli del nostro debito pubblico avrebbero avuto un cliente sicuramente più certo che sarebbe stata appunto Banca Italia stessa, rispetto invece a come poi si sono evolute le cose. Però sono sicuro che il problema del debito pubblico se avessimo mantenuto la lira sarebbe stato molto molto più grave, anche perché i saggi di interesse evidentemente sarebbero decisamente superiori e quindi le conseguenze di questo sinceramente non saprei quali potrebbero essere. Se non sarebbe stato default ci sarebbe mancato davvero poco. Certo, sì sì sì, ovviamente sono solo supposizioni che possiamo fare. Un'ultima suggestione invece per quanto riguarda, l'hai citato, il ruolo della Germania perché diciamo che chi ha tratto vantaggio sicuramente dalla moneta unica sono stati i tedeschi. I tedeschi che però in questo momento stanno attraversando una situazione un pochino più complessa della nostra, nel senso che con un'inflazione che ha raggiunto un tasso superiore al 5% come non si vedeva addirittura dal 1992, dal periodo di Helmut Kohl. Insomma questo cambia completamente lo scenario e poi un altro fattore da considerare è anche il dopo Weidmann. Quindi ti chiedo una riflessione sulla Germania, come influenzerà non solo la politica monetaria del continente ma soprattutto anche le decisioni della Lagarde a questo punto? La Germania è un anello importante, fondamentale della costruzione europea e dell'euro. Quindi non c'è dubbio che quelle che saranno le scelte e le decisioni della Germania influenzeranno molto anche quella della BCE. Calcoliamo che la produttività della Germania durante il ventennio dell'euro è aumentata del 24,4% mentre quella dell'Italia per esempio è aumentata del 5%. Questo cosa significa? Che negli ultimi vent'anni la Germania ha saputo sfruttare l'euro in maniera molto più importante di come siamo riusciti a fare noi o di come siamo riusciti a fare altri paesi. E questo indubbiamente ha portato la Germania a una situazione di locomotiva dell'economia. La Germania indubbiamente sta un po' prendendo il fiato, è anche in una fase di passaggio in cui c'è stato l'altro giorno il saluto della cancelliera uscente che per 16 anni ha governato il paese. Ora abbiamo un nuovo cancelliera, abbiamo una politica economica che sicuramente verrà ritoccata rispetto a quello che era la politica della cancelliera Merkel e sicuramente abbiamo dei dati congiunturali, il dato sull'inflazione che ci tratta tu, ma ci sono dei dati ugualmente preoccupanti per quello che riguarda la Germania anche in termini di produzione industriale per esempio e anche devo dire in termini di crescita perché per la prima volta da diversi decenni la Germania cresce molto meno della media europea e anche meno dell'Italia e questo è davvero una notizia importante. Quindi in questo momento la Germania è su un crinale, è in una fase di transizione, è in una fase anche critica, la congiuntura non sta andando benissimo. Ecco, ma secondo te, scusami se ti interrompo, è solo un momento di flessione oppure il ruolo come hai detto di locomotiva economica d'Europa è a rischio? E chi potrebbe prenderlo eventualmente al posto della Germania a questo punto? Secondo me un minimo di riequilibrio è una cosa assolutamente salutare, non vi devono essere secondo me locomotive per quello che riguarda la politica economica europea, deve essere la BCE che coordina in maniera omogenea una politica europea economica comune in grado di fare sì che sia l'intero continente, l'intero blocco, l'intero mercato europeo a fare il ruolo della locomotiva, non un singolo paese che è stata la Germania per molti anni e che in questo momento potrebbe essere l'Italia o potrebbero essere magari altri stati. La armonizzazione delle politiche economiche deve portare a un'omogeneità nella crescita, una crescita armonica di tutte le economie dell'area europea, dell'area euro in maniera particolare. Quindi secondo me non dobbiamo andare a cercare una locomotiva e il fatto che la Germania lo fosse era comunque in qualche modo una patologia del sistema, basta guardare i numeri. Un paese cresceva molto più degli altri perché evidentemente si avvantaggiava in maniera molto maggiore rispetto agli altri di alcune politiche, ma non deve essere così. Tutti i paesi si devono avvantaggiare e devono costituire un blocco unico che cresce armonicamente e tutti insieme. Certo, possiamo dire quindi in questo senso che un po' la pandemia è fatta da riequilibratore, anche in maniera involontaria, però diciamo che questo poi alla fine magari è anche l'effetto e come dici tu potrebbe essere anche un effetto positivo, assolutamente non negativo. Sì, dal punto di vista domenico condivido la tua osservazione, dal punto di vista domenico è stato così. La pandemia ha un attimo redistribuito questa forza di crescita fra le varie economie del continente in qualche modo facendo risorgere economie come quella italiana che da decenni erano condannate alla crescita dello zero virgola e che invece adesso hanno delle crescite molto più robuste sull'ordine dei sei punti percentuali, anche superiore. Quindi si tratta ora però di fare sì che questa occasione non venga buttata all'aria e di impedire che la virulenza dell'ennesima variante della pandemia possa portare a un rallentamento di quello che è un percorso che è già iniziato e del quale in qualche modo stiamo godendo. Sicuramente una chance da sfruttare, come dici tu. Andrea, io ti ringrazio tantissimo per la tua riflessione, per questa bella panoramica che abbiamo fatto sia sulle banche centrali sia appunto sui vent'anni dell'euro. Naturalmente io ti riaspetto qui molto presto sulle fonti tv per continuare a dialogare insieme. Grazie ancora. Molto volentieri, grazie e buon pomeriggio. Grazie a tutti.